la relazione tra il cantante e l'ex modella sembra essere in crisi con voci insistenti su una possibile rottura ecco quello che sappiamo la coppia è uscita allo scoperto solo a marzo 2023 quando eros ha condiviso una foto insieme sui social ma si frequentavano già da qualche mese prima speculazioni suggeriscono che la relazione possa essere finita ma manca una conferma i fan restano in attesa di chiarimenti sulla situazione le ultime notizie sulla presunta rottura tra il cantante e l'ex modella la relazione tra eros ramazzotti ed alila gelsomino molto discussa anche per i 25 anni di differenza tra i due sembra essere arrivata al capolinea nonostante le immagini felici e affiatate condivise sui social fino a qualche tempo fa da circa un mese non si vedono più insieme alimentando le voci di una possibile rottura quali sono le dichiarazioni ufficiali della coppia al momento nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali non ci sono né conferme né smentite ma le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti e parlano di una separazione definitiva sono solo rumors o c'è un fondo di verità i fan restano in attesa di un riscontro ufficiale da parte della coppia vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questa vicenda sentimentale chi è dalila gelsomino scopriamo la donna che ha conquistato eros dalila gelsomino è una giovane ex modella cresciuta a milano dove ha sviluppato una passione per la moda e lo spettacolo dopo aver intrapreso diversi studi sia in italia che negli stati uniti si è trasferita in sud america nel 2016 nel corso della sua carriera ha lavorato come modella organizzatrice di eventi cantante nei locali e successivamente si è dedicata al settore immobiliare oltre a essere ammirata per la sua bellezza dalila è apprezzata per la sua riservatezza mantenendo un profilo discreto nonostante la notorietà della sua relazione con eros ramazzotti grazie